Ciao amici di Italia Top Games, buongiorno, buona domenica, buona Pasqua, ve l'avevo promesso un video anche breve da dove sono? Dove sono? L'avete riconosciuto? Sono a Cagliari, sono venuto qui con mia moglie, con i miei nipoti, con i parenti che abbiamo qui insomma un caramba che sorpresa, versione familiare, versione pasquale, stiamo benissimo, c'è un bel clima, non è caldissimo ma si sta benissimo quindi io vi faccio tutti i migliori auguri di buona Pasqua, un piccolissimo richiamo ai football anche oggi, sì ci sta perché in tanti mi state scrivendo ma è vero che giovedì arriva l'aggiornamento con la Cop, ovviamente non c'è nessuna notizia ufficiale di Konami quindi non sappiamo se sarà una Pasqua giovedì o se ci saranno solo le novità già annunciate ufficialmente da Konami ovvero roster ingrandito per i giocatori, abilità eccetera eccetera eccetera, questo io non lo so ragazzi domani torno in continente e quindi tornerò a vedere tutte, non in continente, tutto attaccato in spazio continente ovviamente torno nelle Marche e seguirò un po' tutte le indiscrezioni, tutte le cose però vi ribadisco che per il momento di novità ufficiale sulla Cop non ce ne sono da parte di Konami staremo a vedere, comunque io vi faccio ancora i migliori auguri di buona Pasqua, domani pomeriggio vi farò un solo video giornaliero con le novità della giornata e poi da martedì torniamo alla programmazione consueta ve l'avevo promesso questo video, io mi godo il sole di Cagliari, il bel clima di Cagliari, il maestrale di Cagliari poi più tardi si va a Pula, chi sa di queste zone sa bene che sono bellissime spiagge io vi auguro ancora buona Pasqua, buona Domenica, buon tutto e ci rivediamo presto anche stasera alle 20 c'è il campionato, le ultime partite della fase precedente da martedì si comincia quella nuova buona Domenica ragazzi, auguri e buona Pasqua, ciao